Allora, eccoci qua, buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo webinar organizzato da Daphne con Porta Futuro Lazio. Oggi l'argomento è particolarmente d'attualità, parliamo di smart working, anche se è un termine forse improprio per quello che effettivamente stiamo facendo in questo periodo, però più o meno tutti, vista la situazione di pandemia, che ci consiglia appunto di stare il più possibile chiusi a casa. Non è una novità in realtà questa modalità di lavoro perché se ne parla da diversi anni, mi ricordo ormai parecchi anni fa quando ci fu un convegno a Orte, lì avevamo una sede del centro interdipartimentale per la diffusione delle energie rinnovabili, il CIRDER dell'Università della Tuscia, dove si parlava appunto di energia e di risparmio energetico e in una mia relazione poi proprio avevo prospettato queste modalità di lavoro proprio in funzione del risparmio energetico perché oggi molti di noi vanno in ufficio per mettersi davanti a un computer quando potrebbero farlo benissimo a casa risparmiandosi chilometri, tempo, traffico, inquinamento e quant'altro. Certo però si trova a scio della medaglia e quindi bisogna anche fare attenzione ad applicare questo che è un nuovo strumento in modo ottimale, quindi come tutti gli strumenti poi vado operato nel modo giusto. Ed è questo appunto il tema di oggi di cui ci parlerà Pierpaolo Pacione che è un esperto in salute e sicurezza, un formatore e diciamo che con piacere e entusiasmo ha aderito a questa nostra iniziativa. Quindi io lascio la parola a Pierpaolo e ovviamente come al solito potete mettere in chat le eventuali domande e poi Pierpaolo quando riterrò opportuno risponderà. Prego a te Pierpaolo. Grazie, grazie Massimo e buongiorno a tutti coloro che hanno voluto aderire a questo seminario. Come diceva Massimo, l'argomento è di attualità perché ormai da oggi noi stiamo festeggiando l'anno di pandemia in Italia o meglio l'anniversario del primo lockdown, 9 marzo è iniziato, il giorno 11 cominciamo a chiudere definitivamente i negozi. Stavo raccontando pochi minuti fa a professor Cecchini appunto quanto fu pesante per tutti noi quella reclusione forzata. Oggi nel mio intervento vorrei cercare di spiegare meglio, di rendere un pochino più chiaro il concetto di smart working o meglio mettere in relazione al concetto di telelavoro e al concetto forse di un neologismo che poi vedremo fra poco che io credo di aver creato ragionando su questo argomento perché vorrei fare una piccola premessa. Cercherò oggi di mettere in relazione sia l'aspetto sociale, economico di queste nuove, fra virgolette, metodologie di lavoro e quindi quanto impatteranno, come impatteranno in futuro sull'ambiente di lavoro. Vorrei fare un po' di chiarezza, come vi dicevo, sui termini e quindi vorrei cercare anche, se possibile, metterlo in relazione proprio con l'aspetto della salute e sicurezza sul lavoro. Io sono un tecnico della prevenzione da quasi 25 anni, prestato alla formazione da oltre 15 anni, quindi il mio lavoro era, prima della pandemia, era quello di girare l'Italia e incontrare aziende, incontrare lavoratori per formarli in ambito salute e sicurezza sul lavoro. In questo periodo noi abbiamo un'ulteriore premessa, se mi consentite. Io sarò in alcuni momenti della mia esposizione critico su alcuni atteggiamenti, però vorrei che fosse chiaro che il fatto di essere critico è semplicemente, come posso dire, portato all'errore semantico dell'interpretazione della parola smart working. Nulla a che vedere invece con l'essere critico nei confronti di aziende, di imprenditori, che in un momento di emergenza, anzi io in modo particolare molte volte mi arrabbio un pochino quando sento criticare aspramente decisioni prese nella criticità. Io vengo da giovane, per qualche tempo sono stato nell'ambito delle forze armate. Nelle forze armate ti insegnano anche a dover decidere nella criticità. Decidere, prendere quella decisione che poi dopo verrà valutata in seguito in un momento di tranquillità è molto facile. Quando bisogna decidere in ambito di emergenza, la decisione che deve essere presa in tempi brevi, che deve dare dei risultati nell'immediato, è chiaramente una decisione molto molto complicata da prendere. Quindi vorrei che fosse chiaro che non ho mai, in tutta la mia esposizione, non sarò mai critico nelle decisioni del momento, perché le decisioni del momento, anche l'utilizzo del termine, va bene smart working, va bene telelavoro, va bene un working. Però bisogna poi andare a vedere quanto questi termini sono attinenti alla realtà delle cose. Vorrei cominciare, se mi permettete di condividere lo schermo, ok? Ok, questa è un po' la realtà disegnata, carina, di quello che stiamo vivendo in questo momento. Ma questo è telelavoro, è un working, è smart working? Non lo so. Vorrei iniziare facendovi vedere questa slide. In questa slide vedete quello che è successo e quello che succederà, secondo alcuni analisti dell'economia e delle politiche del lavoro, nel prossimo futuro. Vediamo che nel 2019 c'erano, e qui vi sottolineo il termine che utilizzerò spesso, lavoratori agili, quindi non parlo né di telelavoro né di smart working, parlo di lavoratori che in qualche modo avevano la possibilità di espletare tutta o parte della propria attività lavorativa da un luogo diverso dal luogo di lavoro predefinito. Vedete bene che a maggio, scusatemi, ad aprile, a marzo del 2019 i lavoratori agili erano stimati intorno ai 570 mila. Ad oggi questo numero è già di 5,6 milioni di persone che lavorano da casa. Gioco forza, siamo stati costretti. Quello che si prevede per il post-emergenza, quindi ancora in un momento che non si conosce, si parla di quasi 8. Randstad Research ha stimato che nel prossimo futuro in Italia i lavoratori agili saranno intorno agli 8-9 milioni, che è un numero molto elevato perché se pensate che in Italia ci sono circa 30 milioni di lavoratori attivi in tutti i settori, quindi anche in settori dove naturalmente il lavoro agile non sarà praticamente mai possibile. Immaginate gli appartenenti alle forze dell'ordine, immaginate ai medici negli ospedali, immaginate ai lavoratori che lavorano nelle aziende di produzione. Quindi 8 milioni è un numero estremamente elevato. Anche successivamente vi farò vedere delle slide, delle rilevazioni fatte. queste rilevazioni portano a darci dei risultati. E cioè alla domanda di come valuta questo modo di lavorare, il campione preso da Euromedia Research per Oricon, Oricon è un'azienda che si occupa di ristorazione collettiva, e ha chiesto a Euromedia di verificare come i lavoratori avessero risposto in questo periodo al lavoro domiciliare. Lavoro domiciliare che è molto simile agli arresti domiciliari, vorrei farvi notare. Bene, il 47,2% dei lavoratori ha risposto positivamente, quindi quasi la metà del campione presi in esame ha detto ma io tutto sommato questo tipo di lavoro lo gradisco. Però se alla domanda successiva, e cioè se si immagina di lavorare sempre così, il campione ha risposto che negativamente, cioè il 41% degli intervistati ha detto no. Se poi andiamo a vedere i sottinsiemi di questo campione, ci accorgiamo che il 40% delle donne e il 45% delle donne con figli risponde assolutamente no. Cosa che ci dovrebbe già far accendere qualche campanello. Ma come? Il lavoro che dovrebbe essere quello che va a bilanciare meglio il rapporto tra la gestione della famiglia e la gestione del lavoro dovrebbe essere proprio 100% positivo. E invece la risposta non è stata uguale. Se poi andiamo a vedere coloro che nel momento di, quindi vi sto parlando, verso giugno del 2019 hanno potuto fare in quella fase di decrescita della pandemia e dove molti sono ritornati in qualche modo se non tutti a lavorare, bene, il 68% di loro, cioè il 68% delle persone che sono rientrate in sede e dicono no assolutamente preferisco lavorare sul mio posto di lavoro abituale. E la domanda quindi che poi Aero Research ha posto, ha formulato al campione è stata quella ma lavorando in questo modo è riuscita a far conciliare il lavoro, la casa, la famiglia? Il 64% degli uomini dice di sì, il 54,3% delle donne invece evidenzia proprio questa difficoltà di work-life balance. Quindi ecco, io da questo punto ho cominciato a farmi delle domande e sempre utilizzando la ricerca di Euromedia ho trovato che praticamente un lavoratore su quattro, lo vedete quello mino in alto disegnato in rosso, 23,5%, rileva un maggior carico di lavoro affrontato nelle giornate a casa e senza limiti di orario, perché questa è stata la sensazione che hanno avuto le persone, cioè un lavoratore su quattro e in alcune altre ricerche anche due lavoratori su quattro hanno detto ma io ho lavorato di più o meglio di hanno stimato di aver lavorato almeno un'ora in più al giorno rispetto alle ore di lavoro presso la sede di lavoro di ufficio e una parte di essi ha detto io sono andato sempre ben oltre l'orario normale di ufficio alcuni sempre quasi un quarto del campione sottolinea le difficoltà operative e qui faremo poi delle approfondimenti in seguito quali sono queste difficoltà operative che hanno incontrato alcuni sono chiare, altre sono meno lampanti a una prima e superficiale analisi, sottolinea le difficoltà operative per la mancanza di una postazione di lavoro adeguatamente allestita, 22,8%. Una parte un po' meno sensibile ha detto che riconosce un calo della concentrazione e il 20% dice difficoltà organizzative generali. Probabilmente in queste rilevazioni vanno a pesare poi delle casistiche specifiche che vorrei successivamente andare ad approfondire ma ecco già questa slide vi dà l'idea che un quarto di coloro che hanno utilizzato la modalità di lavoro agile non si sono trovati a loro agio. Ecco qui quello che si dice il 44,2% ha detto bene a me questa cosa fa comodo perché risparmio il tempo e lo stress legati allo spostamento da casa al lavoro e viceversa. A fronte di quello invece ci dicono sì però mi è mancata la comunicazione e il contatto con i colleghi, mi sono, mi è mancata, ho avuto difficoltà a separare la vita lavorativa da quella privata, mi è mancata una postazione di lavoro adeguata a per fare il mio lavoro. Ora io comincerei a ragionare su queste cose e partirei proprio da quella premessa che vi ho fatto. Tutte le decisioni che sono state prese in questo momento sono decisioni legate a una situazione di emergenza. La situazione di emergenza naturalmente ha creato anche situazioni che poi in futuro difficilmente si ripeteranno nel senso che molti di noi improvvisamente da un giorno all'altro si sono trovati nei propri appartamenti, magari dovendo condividere degli spazi che erano pensati per una vita non lavorativa, quindi magari non tutti avevano uno studio, non tutti avevano una connessione internet performante. Se questo aggiungete che non è che c'è un solo componente della famiglia a condividere queste risorse, ecco lì che io comincio a dire questi risultati lasciano un po' il tempo che trovano, quindi negativa o parzialmente negativa il giudizio di una parte di coloro che lo hanno fatto, ma dovuti anche a situazioni contingenti legate alla situazione emergenziale. Quello che dico spesso è che probabilmente se questa grande prova di lavoro agile fosse stata fatta successivamente o in un momento di non pandemia, probabilmente i risultati sarebbero molto più sbilanciati verso un giudizio positivo, anche se poi bisognerà vedere quali sono i presupposti per fare un lavoro veramente agile. Ecco qui che vorrei sottolineare l'importanza di prendere un po' con le molle questi giudizi di primissima battuta del lavoro eh del lavoro agile, dello smart working, del telelavoro perché poi secondo me dovranno essere rivisti in un'ottica di eh normalità. Vi stavo dicendo probabilmente in un futuro magari non tutte e due, non tutte e tre ehm delle le persone che lavorano a casa lavoreranno contemporaneamente a casa. Probabilmente i nostri figli per chi ne ha ricominceranno a vivere una vita fatta di alternanza tra la scuola in presenza e la e la vita poi normale presso l'abitazione. Quindi sarà difficile avere queste ehm convivenze forzate e prolungate nel tempo perché poi quando andiamo a parlare dello stress che questa cosa ha creato e quindi andiamo veramente a metterci dentro eh a a buttarci dentro all'argomento legato alla salute e sicurezza sul lavoro perché oggi parliamo di stress lavoro correlato in questo modo perché chi dice sono stressato nel fare questo lavoro naturalmente eh sarà necessario andarlo a ehm inserire nell'ambito di una valutazione appunto relativa allo stress lavoro correlato ma lo stress lavoro lo stress ehm in questo senso non è solo lavoro correlato. Pensate allo stress che ha generato anche ehm l'impatto della proprio della della dell'insorgere della malattia su molte su molti di noi quindi anche la paura che ognuno di noi vive giornalmente ehm relativa alla possibilità di essere eh contagiato o la preoccupazione che il contagio vada a colpire persone della propria famiglia magari deboli i genitori più anziani eh i bambini più piccoli che per una prima parte per un primo grande momento della pandemia sono stati esclusi ma che adesso cominciano anche loro a essere eh colpiti dal covid-19 quindi chiaramente questo già da di per sé rappresentano stress. Andiamo a discutere anche della 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 mancanza di infrastrutture. L'Italia non è un paese completamente ehm connesso. Eh sappiamo bene che il digital divide colpisce ancora molto il sud o meglio il sud in alcune situazioni è a delle connessioni migliori ma un minor numero proprio di collegamenti alla rete e quindi di persone che poi usufruiscono di di collegamenti di nuova generazione. Eh ma la mancanza di infrastrutture. Molti si sono trovati di infrastrutture tecnologiche per espletare il proprio lavoro. Molti si sono trovati eh con magari un solo computer a casa. Computer che andava condiviso o una sola stampante o un un solo microfono che andava condiviso tra il figlio che magari doveva seguire la lezione e noi che dovevamo eh andare a a discutere un argomento importante con gli altri colleghi del nostro gruppo di lavoro. Ecco lì che nascevano problemi. Molti si sono trovati a dover acquistare quindi con un esborso privato nuove eh nuove 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 macchine, nuovo nuovo hardware. Molti hanno dovuto eh attivare questo è un dato che ho scoperto da pochissimo tempo. Molti oggi sono coloro che hanno due reti separate, due due connessioni separate perché una non bastava. Quindi eh ecco lì che in una stanza magari il figlio e o i due figli facevano lezione su una connessione e magari eh i genitori eh da una parte facevano le loro riunioni o lavoravano connessi con un'altra cosa. Questo ha rappresentato chiaramente un raddoppio del costi per le per le per eh per le famiglie. Vi è più aggiungiamo che non tutti i lavoratori erano pronti ad affrontare questa sfida. E se i lavoratori non erano pronti ad affrontare questa sfida è anche vero che molte aziende non erano assolutamente preparate e ancor meno lo erano i manager che hanno da un giorno all'altro e quindi anche qui da una parte ci sarà una critica legata magari a un modo di pensare di questi manager ma anche eh se permettete il plauso di avere in qualche modo da un giorno all'altro dovuto riorganizzare il proprio lavoro e i propri gruppi di lavoro. Quindi vedete quanti ehm quanti eh punti importanti abbiamo già eh messo eh sul sul tappeto. Scusate un attimo. Ok. Eccolo qui. Io quello che dico è che oggi il vero termine che dovremmo usare quando eh parliamo di di questa tipologia di lavoro secondo me è giusto emergency working. Non è telelavoro, non è smart working, non è home working, ma è un lavoro di emergenza, una riorganizzazione emergenziale di tutto le eh le strutture che hanno coinvolto tutti noi e che quindi naturalmente portano con sé molte e molte e molte eh problematiche che in una normale eh visione sia del telelavoro sia dello smart working non ci sarebbero state. ehm e quindi ora proviamo a vedere cosa vuol dire eh telelavoro andiamo un po' ad analizzare i vari eh termini nella propria eh nella propria interezza e andiamo a vedere come la normativa in qualche modo negli anni ha eh si è sviluppata. Intanto cominciamo a vedere che il termine telelavoro ehm termine che piace sempre pochissimo ai molti in modo particolare a a coloro che fanno comunicazione nessuno usa il termine state facendo telelavoro perché sembra quasi un termine eh dispregiativo almeno io lo vedo spesso usato in maniera dispregiativa. Non è non la vedo in questo modo. è stato eh secondo me un importantissimo eh apporto che sia la norma sia le aziende le organizzazioni sia pubbliche che private hanno nel tempo provato a implementare per consentire a quelle persone che per motivi eh di eh necessità avevano bisogno eh per eh riuscire a in qualche modo a far eh convivere ciò che era la necessità per esempio di gestire figli di accudire persone con disabilità e questo anche qui è qualcosa che deve essere sorpassato il telelavoro piuttosto che lo smart working non possono essere o non devono essere eh continuati a vedere ehm come qualcosa di destinato solamente a persone in stato di necessità perché altrimenti perdiamo eh gran parte di questa eh della 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 peculiarità di questa cosa e come dicevamo all'inizio oltretutto eh in un'epoca in cui eh usciamo dall'aspetto eh di eh di emergenza sia il telelavoro che lo smart working che il che il lavoro agile che l'home working potrebbero essere delle importanti ehm modalità per evitare il per diminuire l'inquinamento per diminuire gli spostamenti di lavoro conosciamo tutti il numero di infortuni in itinere che rappresentano quasi il trenta per cento degli infortuni sul lavoro eh e quindi eh eh diminuire il numero di persone che si spostano di fatto potrebbe abbassare in maniera piuttosto sensibile il numero di persone che hanno infortuni durante gli spostamenti casa lavoro lavoro casa come vedete sono già quasi venticinque anni che si parla di telelavoro il telelavoro in modo particolare per quanto attiene le pubbliche amministrazioni è stato normato nel tempo più volte vedete una prima legge che è quella del 16 giugno millenovecentonovantotto della cento novantuno e che riguarda appunto la ehm la il lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni immediatamente dopo quindi un anno dopo abbiamo il decreto presidente della Repubblica 8 marzo 1999 numero 70 che porta la il che eh disciplina il il telelavoro nelle pubbliche amministrazioni ehm poi dopo approfondiamo anche eh più specificamente ognuno di questi aspetti immediatamente dopo interviene l'accordo quadro del 23 marzo del 2000 e in ultima battuta se vedete ci sono sia la circolare INPS del 2015 numero 52 che va proprio a regolamentare come il lavoro dovrà essere svolto e principalmente andrà a ehm regolamentare l'aspetto salute e sicurezza sul lavoro e quindi per ultimo eh la legge del 7 agosto 2015 124 che da lega il governo in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni è la legge del 7 agosto è la legge che va a recepire eh quanto richiesto dalla direttiva Amadia andiamo un po' avanti appunto come vi dicevo ecco qui la legge centoventuno del nominato del novantotto all'articolo quattro parla di razionalizzazione del del lavoro e quindi concede alle pubbliche amministrazioni il il fatto di potersi avvalere di lavoro a distanza al fine di eh a tal fine dice la la norma le pubbliche amministrazioni possono installare nell'ambito delle proprie eh disponibilità di bilancio e quindi non andando a gravare sul 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 bilancio dello Stato sia di apparecchiature informatiche collegamenti telefonici e telematici necessari a autorizzare i propri dipendenti ad effettuare a parità di salario perché qui qualcuno comincia a farsi ehm suonare qualche campanello d'allarme dicendo beh ma allora forse chi lavora da casa potrebbe guadagnare un po' di meno visto che risparmia risparmia dove? Sul trasporto sul semplicemente quello ma il trasporto come ha rilevato mh come hanno rilevato alcuni ehm avvocati non è mai stato parte di di un contratto cioè al lavoratore non viene mai detto visto che tu vieni da più lontano guadagni un po' di più quindi non si capisce perché il fatto di non essere presente debba in qualche modo incidere quantomeno sulla retribuzione base dei lavoratori. Tanto per essere chiari in molte aziende durante il periodo del di covid-19 è accaduto che i lavoratori si sono visti eh eliminare per esempio la quella che viene chiamata la ehm la la il bonus di presenza eh oppure non si sono visti riconoscere gli straordinari o ancora di più e cosa ancora molto dibattuta attualmente non è stato riconosciuto il famoso ticket restaurant come se chi stesse a casa per lavorando non dovesse avere diritto a quella piccola retribuzione in più ma che in alcuni casi va a essere va a coprire circa il cinque dieci per cento del salario normale ehm mentre stava a casa quindi a casa non si mangia quindi il costo del mangiare a casa ha un costo diverso dal fatto che io mangio magari il tramezzino il panino il trancio di pizza eh durante l'orario durante l'orario di pausa pranzo quindi già nel nel novantotto qualcuno questa questa questo atteggiamento eh lo ha rilevato e comunque in qualche modo lo aveva regolamentato appunto parlando di parità di salario se poi andiamo a vedere il decreto presidente della repubblica numero 70 che individua una nozione di telelavoro come lavoro a distanza ovvero al di fuori della distanza quindi anche qui per con telelavoro andiamo a vedere andiamo a disegnare semplicemente un qualcosa che è semplicemente lo spostamento fisico se vogliamo della scrivania del lavoratore da un luogo a che è il luogo fisico il luogo di residenza della della pubblica amministrazione e la scrivania della del lavoratore presso la sua abitazione o comunque eh anche questo richiede eh che io faccia una piccola eh specifica magari non è l'abitazione ma un luogo eh separato potrebbero essere quelle che una volta venivano chiamate postazioni di co-working o meglio ancora oggi vengono chiamate postazioni di co-working naturalmente dicevo usato il passato perché attualmente a quelle postazioni condivise ad oggi non si può accedere nel eh duemila eh viene stipulato l'accordo quadro quindi vengono eh vengono viene stabilito in maniera molto eh specifica che comunque quello che è il telelavoro non va a mutare non va a mutare la natura giuridica del rapporto del lavoro in atto quindi non cambia anche se il telelavoro richiede una forma contrattuale specifica e questo è molto molto importante cioè il telelavoro effettuato dal lavoratore richiede che venga eh in qualche modo non in qualche modo ma che venga contrattualmente eh regolamentato e quindi nel nel duemilaquindici la l'Inps cominciando a notare un l'aumento di persone che fanno richiesta di ehm di telelavoro eh comincia a si occupa di si comincia ad occupare di in qualche modo regolamentare in maniera molto chiara eh la la materia di salute e sicurezza sul lavoro per i lavoratori che 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 sono in condizione di telelavoro duemilaquindici siamo ben dopo il duemila e otto e quindi ben dopo l'avvento del decreto legislativo numero ottantuno del nove aprile duemila e otto che all'articolo tre quindi nel nel articolo che si riguarda il campo di applicazione specifica che i lavoratori che sono in telelavoro hanno diritto a tutta una serie di attenzioni particolari da parte del lavoro del datore di lavoro queste attenzioni si eh vanno poi a sostanziare in che cosa si vanno a sostanziare in quello che è il controllo che il datore di lavoro può da una parte e deve dall'altra effettuare sull'ambito della postazione di lavoro del 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 telelavorista permettetemi questo 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 termine e quindi addirittura potendo prevedendo l'accesso del datore di lavoro al luogo di lavoro per verificarne e eh nel caso eh invalidarne la la correttezza eh e la il corretto posizionamento del lavoratore questa è una questione molto molto importante la circolare la riprende praticamente pedissequamente ripetendolo eh uno uno infatti dice al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza il datore di lavoro le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale dei contratti collettivi dovendo tale accesso però essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio e comunque per chi eh non è digiuno di salute e sicurezza sul lavoro e nello specifico nella valutazione del rischio sa quante difficoltà ancora oggi quindi a distanza di oltre eh dieci anni si hanno quando si va a parlare eh di una verifica della posazione del lavoratore quando questa è all'interno dell'abitazione a risseguito appunto della riforma Madia che cosa succede viene introdotta per recepire appunto quanto previsto dalla riforma eh del ministro Madia la legge centoventiquattro del duemilaquindici che è l'articolo quattordici parla di promozione della conciliazione di tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche questa cosa è ehm una delle cose che mi eh da una parte mi fa sorridere dall'altra mi fa un po' dispiacere perché come al solito non si va a cercare una vera e propria conciliazione dei tempi di vita delle persone ma si va sostanzialmente chi poi ha conosce un pochino le pubbliche amministrazioni sa che questa cosa eh questa possibilità di lavoro a distanza veniva concessa dopo lunghe richieste dopo aver dimostrato che le che c'erano delle problematiche specifiche per esempio nella gestione di un di un figlio per esempio e quindi e qui eh visto che siamo a pochi giorni dopo la festa delle donne e dopo aver sentito eh come anche il nostro presidente della Repubblica abbia sottolineato l'assoluta necessità di una conciliazione nuova rispetto alla differenza di genere sappiamo perfettamente che queste cose venivano concesse in modo e parlo di concesse quindi non come un diritto del lavoratore ma qua proprio come una concessione da parte del del dell'amministrazione ma è vero anche nella nel privato questa cosa alle donne che avevano necessità di accudire i figli e guardate che appunto eh nel duemila e quindici si richiedeva entro tre anni quindi entro il duemiladiciotto di avere almeno un dieci per cento di dipendenti eh in telelavoro oggi questa percentuale è di poco sopra al dodici per cento quindi si è tentato eh almeno a mio avviso semplicemente di andare a eh rispondere a cosa che succede molto spesso nell'ambito della normativa della salute e sicurezza sul lavoro a rispondere a quanto la norma richiedeva senza fare nessuno sforzo per poi allargare la alla ad una platea più vasta questa possibilità di non essere sempre presente sul posto di lavoro ehm per quanto riguarda invece e questo è uno delle cose che eh è importante sottolineare il tele non non esiste esiste pochissima normativa o quasi non esiste eh una disciplina legale per il telelavoro in ambito privato eh chi se ne chi ne ne fa richiesta o le aziende che in qualche modo lo avevano previsto nell'ambito del della loro organizzazione facevano riferimento a tutta la normativa di cui parlavamo eh in precedenza ehm anche qui ehm vediamo che ci esistono eh poche appunto come vi dicevo norme eh sono principalmente accordi quadri uno stipulato a Bruxelles il sedici luglio duemila e due che poi è stato recepito praticamente in toto dall'accordo interconfederale famoso conosciuto da tutti del nove giugno duemila e quattro eh e che la da una definizione di telelavoro estremamente ampia ehm applicabile un po' in tutti i modi quindi il telelavoro costituisce una forma di organizzazione e o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell'informazione nell'ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro quindi anche qui di nuovo si ribadisce che il telelavoro è una forma contrattuale di un rapporto di lavoro e in cui l'attività lavorativa potrebbe anche essere svolta nei locali dell'impresa eh viene regolarmente svolto al di fuori quindi invece di farla in un posto X la fa questa attività la svolgo in un posto Y ma non cambia i non cambiano gli orari non cambiano le organizzazioni non cambiano gli accessi alla cosa eh sostanzialmente io vado a spostare fisicamente la scrivania dal luogo A a un luogo B. Cos'è invece lo smart working? Eh lo smart working invece dice l'osservatorio del Politecnico di Milano che ormai ehm che ormai da molti anni si occupa di questo fenomeno parla di una nuova filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persone di flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi degli orari e degli strumenti da utilizzare a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati eccolo mentre prima parliamo di una forma contrattuale mentre prima parliamo di uno spostamento esclusivamente fisico del lavoro che facevo da una parte al lavoro che faccio allo stesso al medesimo lavoro che faccio semplicemente da un'altra parte qui si parla di una filosofia manageriale dove quindi i primi attori sono i manager che dovranno comprendere come garantire questa restituzione alle persone di una flessibilità e autonomia degli spazi. Lo smart working richiede un ripensamento importantissimo dell'organizzazione aziendale e voi capite che parlare di smart working oggi nel momento in cui ripensamento non c'è stato non per cattiveria non per ehm mancanza di volontà ma perché banalmente come vi dicevo prima siamo abbiamo dovuto prendere decisioni in un in un ambito di emergenza ecco qui che non possiamo utilizzare il termine smart working noi abbiamo usato degli ibridi un po' di smart working un po' di telelavoro un po' di di home working tutto quello che volete ma sicuramente anche andando a leggere questa che è la definizione base dello smart working per chi di smart working ne ha fatto un lavoro e una materia di studio parla di filosofia manageriale e questo è il punto più importante vale a dire che noi se volessimo perché sarebbe importante sarebbe interessantissimo poter sviluppare una nuova organizzazione aziendale sia nelle pubbliche amministrazioni che nel privato ecco che dobbiamo andare a ripensare le organizzazioni dobbiamo andare a ripensare la formazione dei manager perché uno dei grandi problemi che si sono incontrati è stato proprio questo da una parte il senso di abbandono di alcuni che si sono trovati da un giorno all'altra senza aver più contatti con l'azienda magari lasciati anche eh da soli a decidere su come fare quel lavoro che prima veniva svolto magari in team magari con il collega vicino al quale poter continuamente col quale continuamente poter interagire ecco qui che oggi le persone dal 9 marzo del del 2019 sono trovati improvvisamente da soli con lontani magari anche dalle ehm dalle fonti dalle alle quali potevano ehm ehm accedere per trovare eh spiegazioni o per accedere al proprio materiale di lavoro ecco qui che eh smart working è qualcosa di veramente molto diverso eh scusatemi e qui per fare questo discorso occorre anche un po' andare a rive a vedere come ehm organizzata la la società italiana oggi eh la società italiana si basa quasi quasi ehm completamente su queste quattro generazioni poi esiste una generazione più anziana che è quella dei silent eh la silent generation viene chiamata e quella che poi è la generazione Y che è quella dei ragazzi nati dopo il duemiladieci e che quindi non sono ancora attivi eh nel mondo del lavoro quindi abbiamo una generazione che è ormai ha smesso di lavorare e una generazione che invece ehm deve ancora iniziare il il lavoro ma quello che voglio dire è che ehm permettete un attimo poi riprendo questa slide quello che noi dovremmo fare dopo l'emergenza sarà quella di eh riuscire a eh raccogliere tutto ciò che di buono in questo periodo è stato fatto tutta l'esperienza che le persone che sono si sono trovate improvvisamente a lavorare in modo diverso hanno messo in campo quindi gli sforzi fatti da queste persone perché se noi facciamo perdere eh queste competenze alle persone che con fatica in questi mesi le hanno acquisite sarà veramente un gran peccato perché perderemo veramente un'opportunità immaginate lo sforzo fatto anche dalle aziende eh tra marzo e eh giugno del duemiladiciannove le aziende hanno fatto degli investimenti enormi ma veramente enormi ehm pensate che ci sono aziende eh come banca intesa che ha fornito centinaia eh no centinaia forse no ma migliaia eh di eh computer portatili ai propri dipendenti per poterli per farli lavorare in ehm in una situazione di lavoro eh dislocato eh ha dovuto eh a crescere in maniera esponenziale tutte le strutture di eh di IT rafforzando in modo particolare immaginate per una banca quanto lo sforzo quale il sforzo è stato fatto dal dal settore di information technology per garantire la sicurezza degli accessi ai sistemi dall'esterno agli accessi ehm della banca però questa quindi mantenere eh vivo questo sforzo è fondamentale naturalmente eh abbiamo tutta una serie di ancora oggi di infrastrutture che sono carenti perché come vi dicevo eh se permettete esco un momento da qua e vi faccio vedere la diffusione della eh delle new generation networking in Italia aggiornata veramente ehm a qualche mese fa direi qualche giorno fa perché è del 2020 Icom ha fatto questa 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 ricerca nel all'inizio del del 2020 vedete come ci siano zone eh dell'Italia che patiscono moltissimo la carenza della della dell'accesso alle alle nuove alle reti di nuove generazioni ma potrei dirvi per esperienza personale eh io vivo eh per buona parte della mia vita eh tra Roma e Viterbo in un paesino di circa mille mille ottocento anime beh noi abbiamo iniziato il lockdown utilizzando un ADSL che per quanto mi riguardava andava benissimo per l'accesso eh fuori orario di lavoro per le quattro cose che io eh utilizzavo eh diciamo a livello domestico naturalmente nel momento in cui per esempio mi sono trovato a dover gestire una eh formazione con venti persone a distanza naturalmente la mia eh la mia rete è andata in fault e ho dovuto rinunciare a quella formazione lasciando quindici persone all'improvviso senza eh docente perché proprio la mia connessione non non ce la faceva assolutamente soltanto grazie all'interessamento del sindaco dopo lunghissime eh vicissitudini eh verso eh giugno eh tra giugno e luglio del duemiladiciannove siamo riusciti a farci portare la fibra fino alle nostre case immaginate con quale eh fatica e ora e immaginate con quale stress personalmente ho vissuto questa cosa ma eh vi assicuro che in quel periodo eh vedevamo le persone che si chiudevano in macchina e arrivavano in paese perché noi abitavamo abitiamo un po' fuori eh dal paese arrivavano ehm è un nucleo abitativo eh edificato un po' fuori dal paese le persone prendevano la mattina la macchina si arrivavano in paese perché lì grazie al cellulare eh riuscivano a connettersi in maniera un pochino più efficiente eh con le reti mobili e quindi lavoravano chiusi dentro le macchine potete immaginare con quale disagio perché poi il portatile si scaricava eh quindi dovevano tornare a casa ricaricare portatili cellulari ottenere le macchine accese per ore perché aveva si erano acquist avevano acquistato eh dei ehm raddrizzatori per portare la corrente da 12 volt a due venti quindi immaginate la fatica che è stato fatto e lo stress che ha rappresentato anche perché e qui ritorno alle slide precedenti se questa questa rappresentazione vera e l'ho trovata la fonte istat veniamo che nella popolazione lavorativa il venticinque per cento è rappresentato da persone che vanno tra che sono nate tra il 1946 e il 1964 parliamo di ultra sessantenni e eh ultra cinquantacinquenni eh io faccio parte di questa generazione qui quando quando l'ho scoperto mi è venuto un po' mi è venuto un po' di tristezza cioè praticamente ho scoperto di essere ormai già in quella generazione eh che sta terminando la il proprio percorso lavorativo ventinove per cento è data da persone che sono persone nate tra il sessantacinque e il settantanove quindi persone che come vedremo successivamente non nascono con l'apparato digitale in mano ma nascono come coloro che si sono dovuti eh hanno dovuto imparare ad utilizzare il eh il i nuovi sistemi informatici e via discorrendo dobbiamo arrivare a quell'undici per cento che sono i nativi digitali e pensate soltanto un piccolo dieci per cento che sono coloro che invece con il computer in mano con il cellulare in mano ci sono nati ehm io molte in questa generazione ho una figlia e ricordo molto chiaramente che eh quando nacque il cellulare già esisteva perché io entra in possesso di uno dei primi eh telefoni cellulari nel 1993 quindi mia figlia che oggi è già una donna adulta eh perché viaggia intorno ai 25 anni è una è comunque nata già in un'epoca in cui il cellulare era qualcosa di eh ormai ehm confermato nell'utilizzo di tutti i giorni andiamo un attimo a vedere le caratteristiche di queste persone di queste generazioni la mia generazione è una generazione che si appoggia al telefono come sistema di comunicazione ma neanche il telefono quello cellulare eh ma magari utilizza ancora proprio il telefono fisso che ha come tecnologia chiave cioè è nata con quella tecnologia è quella della televisione tanto è vero che il lobby principale di questa eh generazione è quella di guardare la televisione la generazione X invece quella un pochino più più giovane è una generazione che invece ha come eh scusate mi manca qui un'immagine come chiave tecnologica già il computer eh ha come hobby quello di navigare in rete e come comunicazione usa eh stabilmente o correttamente senza nessun problema le email i millennials invece nascono con con lo smart working hanno come loro sistema di riferimento lo smart working come hobby hanno i videogame e utilizzano in maniera molto eh attiva e continua eh la messaggeria istantanea quindi i vari whatsapp telegram e via discorrendo se invece poi andiamo a vedere la generazione Z loro hanno l'emoticon come comunicazione hanno le i dispositivi di realtà aumentata di realtà aumentata eh aumentato reality e virtual reality come loro tecnologia chiave li vediamo vediamo io vedo sempre eh questi ragazzi sempre più spesso questi ragazzi interagire con questi sistemi che per noi rappresentano eh o meglio per la mia generazione era qualcosa che si vedeva nei film di fantascienza loro hobby è la non hanno non comprano neanche più i dvd i cd loro la musica e i film li vivono e li eh li eh li li acquistano li gestiscono semplicemente con sistemi come Spotify o Amazon Amazon Music e eh non hanno non non hanno proprio la necessità fisicamente di conservare quelle cose se vi ricordate era eh se vi ricordate eh io ricordo eh io ricordo eh io stesso sono detentore di tantissimi cd perché cd che non uso più perché poi anch'io mi sono eh trasportato in questa nuova realtà ora perché vi ho fatto tutta questa cosa perché voglio arrivare a quest'ultima slide guardate un pochino come quella realtà generazionale poi si ehm si ricompone all'interno di una realtà legata alla dirigenza ehm abbiamo in Italia abbiamo il solo il 22 per cento di dirigenti eh che arrivano a tre sotto i 39 anni contro una media europea del 40 per cento quindi mentre in Europa il dirigente è un millennials o almeno in buona parte quasi per la metà è un millennials in Italia soltanto il 22 per cento accede a questo tipo di carriera per andare a trovare i dirigenti dobbiamo andare in quella in quel settore che va tra i 40 e i 59 anni dove il 70 per cento sono del 70 per cento di dirigenti rientra in quella categoria contro un 55 per cento della media europea e in Italia se andiamo a cercare abbiamo ben quasi l'otto per cento di dirigenti che hanno oltre che sono over 60 anni contro una media europea del 4,9 quindi quasi due punti percentuali in più questo che cosa fa ecco poi se andiamo a vedere eh l'età media di un dirigente per un'azienda votata in borsa è di cinquantasette anni nello stato un dirigente a 62 anni nel settore privato questa età si abbassa a 50 guardate il dato relativo alle banche è pazzesco la dirige l'alta dirigenza nelle banche ha almeno 69 anni perché questa cosa mi ha colpito perché naturalmente quando io vado a mettere questo in relazione al problema eh dei lavoratori che si sono trovati coinvolti in un lavoro da remoto con un utilizzo eh quasi cento per cento di eh strumentazioni elettroniche e con quindi con tutta una serie di nuove modalità di comunicazione immaginate la videoconferenza immaginate l'utilizzo eh del delle presentazioni condiviali avete visto anch'io eh nonostante per mestiere utilizzi ormai da tanto tempo i sistemi stamattina ecco lì che mi impelagavo tra come faccio a far vedere la la presentazione o andavo quasi in panico nel fare questa presentazione probabilmente una la la figlia che vi ho eh di cui vi ho parlato prima questi problemi non li ha perché per lei è normale per lei la comunicazione digitale è qualcosa di assolutamente eh nel 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 modo di vivere quotidiano eh ecco qui ehm che vediamo le difficoltà e naturalmente anche qui immaginate le difficoltà che hanno dovuto gestire chi aveva compiti di eh organizzazione a livello aziendale eh meglio immaginate coloro che fino al giorno prima chiedevano alla segretaria di inviare le mail o piuttosto di preparare la powerpoint per la per la presentazione da un giorno all'altro si sono dovuti trovare a eh gestire completamente da soli magari la connessione a internet magari a dover risolvere quei problemi di connessione che abbiamo avuto tutti allora mentre il millennials non ha nessun problema ad andare nella 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 parte di eh configurazione della rete perché c'è stato un problema o nel riavvio eh del router eh casalingo eh quante problemi potrebbero aver avuto tanti manager eh nel gestire e nel mantenere vivo il rapporto che c'era con i propri eh lavoratori ecco qui che comincia eh cominciamo spero eh a ehm delinearvi quali sono stati i problemi maggiori che hanno avuto quindi anche quella sensazione di abbandono che alcuni lavoratori hanno patito e che abbiamo visto all'inizio del nostro eh del nostro seminario ecco lì che vedete che questa sensazione di abbandono non è stata dovuta a una eh cattiva volontà del manager di essere presente ma magari in una propria difficoltà nel gestire le persone in un modo completamente diverso e anche qui dobbiamo andare a eh fare una riflessione perché abbiamo avuto qualcuno che si è lamentato del fatto di essersi sentito eh un po' abbandonato e qualcun altro che invece ha lamentato un qualcosa di un po' diverso ora io non so se Massimo crede opportuno fare una piccola pausa e poi continuare da qui in poi o se vogliamo continuare sul continuamente ditemi anche 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 i colleghi che sono eh collegati eh se volessero fare qualche domanda così almeno eh concediamo anche a voi il modo per per riposarsi un pochino da questa mia chiacchierata continua di un quasi un'ora ormai Massimo eh che dici? Forse cinque minuti di pausa insomma perché anche c'è un po' le gambe potrei alzarci un po' dalla sedia potrei fare questo che proprio parliamo di smart working assolutamente sì assolutamente sì quindi sono le sette ci vediamo a quindici bene va bene ok allora se tutti sono d'accordo ci rivediamo alle dodici e quindici per fare per affrontare l'ultima parte di questa di questo seminario ok va bene a fra poco allora allora riprendiamo da dove avevamo lasciato ecco appunto parlandovi delle problematiche di chiudere poi le varie le varie le varie cose va bene eccomi qui e eh riprenderei da dove da dove eravamo quindi stavamo parlando di quindi anche di persone che in qualche modo da una parte hanno pagato il il senso di abbandono da parte dell'azienda ma altre invece hanno ehm lamentato eh un problema eh piuttosto o almeno un problema che eh piuttosto comunemente ho sentito eh ribadire da dalle persone con le quali poi parlavo o chiacchieravo relativamente a al problema di telelavoro e smart working e qual è stato molte persone si sono sentite molto più eh oppresse sia dal lavoro vero e proprio sia dal fatto che molto per molto tempo ehm venivano costantemente eh chiamate eh dal proprio responsabile chiamate eh per riunioni con riunioni lunghissime riunioni per ehm decidere anche cose eh tutto sommato banali si sentivano molto controllate dai propri responsabili questa questa cosa viene ehm viene ridefinita in alcune eh situazioni come micro management vale a dire il micro management è quella ehm tipo di ehm direzione che alcuni manager adottano quando si sentono insicuri cioè la necessità di controllare continuamente cosa fa il proprio lavoratore eh cosa fa qualche come lo ha fatto continue eh richieste sull'invio della di relazioni sul sul punto sullo stato di fatto del dei progetti questo ha fatto sì che alcuni lavoratori hanno perso molto più tempo a dover rispondere a queste mail a dover presenziare a queste call tanto è vero che si è addirittura ehm creato un neologismo che è quello di zoom hangovers cioè di coloro che non ne potevano più di stare davanti a zoom addirittura ehm alcuni medici hanno eh catalogato alcuni sintomi da zoom hangovers cioè il mal di testa il senso di nausea ehm la mancanza di appetito ehm ci sono stati dermatologi in Canada che hanno rilevato l'insorgenza della psioriasi addirittura in persone per troppo tempo coinvolte in continue ehm col ehm con i propri partners o con il con i clienti o con la dirigenza questo perché numero uno perché non siamo abituati a un rapporto così prolungato con o meglio non un rapporto ma un'interazione così prolungata eh con ehm con gli altri tutti noi avevamo vissuto prima della pandemia la famosa eh video riunione la chat piuttosto che eh il il breve la breve eh riunione fatta con i colleghi della sede di Milano eh piuttosto che di Roma eh per ridefinire un tratto del progetto e questa cosa che dov'è che ci ehm ci ci porta ad avere dei problemi? I problemi nascono per esempio dal fatto che non avendo ehm la il nostro cervello non eh non è fatto per eh discutere, parlare, interfacciarsi con le persone solo mediante l'aspetto eh verbale. Merabian ce l'ha insegnato tanti anni fa, ci ha detto guardate che solo il quindici per cento è eh adesso non ricordo la percentuale ma comunque la percentuale è piuttosto bassa, non ricordo se era il setto o il quindici per cento, è fatta di comunicazione verbale. Il resto è fatta da paraverbale, da cinestesismi, da intonazioni e termini. Quindi lavorare in questo modo alcuni eh studiosi, alcuni psicologi del lavoro hanno ehm rilevato che questa forte connotazione di comunicazione verbale porta il cervello ad avere delle eh a stancarsi maggiormente. Ecco perché abbiamo ho chiesto prima di fare la pausa al al professore perché naturalmente stare davanti uno schermo per quasi un'ora ad ascoltare una persona che parla è molto più stancante che magari eh seguire quella medesima lezione durante una sessione d'aula e qui nascono tutte le problematiche legate alla formazione le della salute e sicurezza sul lavoro che stiamo vivendo in questi tempi. Eh il per quanto mi riguarda è una lotta continua a far accendere gli schermi per avere almeno un rapporto perché parlare anche per chi fa lo speaker è difficilissimo poter capire se quello che si sta dicendo è eh in qualche modo recepito in maniera positiva dalla dalla platea o se invece no immaginate quanta fatica si possa fare senza vedere nessuno davanti a sé io parlo a un monitor il monitor non mi dà feedback né positivi né negativi per quello che sto facendo io non ho idea se la platea mi sta seguendo eh tutto ciò eh demandato per esempio a una materia come la salute e sicurezza sul lavoro potete immaginare quanto già sia difficile portare le persone in aula perché è visto come un obbligo è visto come un obbligo seccante quello di seguire una lezione eh di salute e sicurezza sul lavoro pensate quanto poco efficace ed efficiente diventa una formazione fatta in questo modo per quanto mi riguarda io eh sto eh in qualche modo ormai da quasi un anno facendo formazione solo per via eh web e mi rendo conto che secondo me il il la quantità di feedback positivi su quanto sono scesi non credo di essere cambiato io credo che proprio la mia la capacità di riuscire a far trasmettere un messaggio in questo modo sia estremamente ridotto quindi per tornare al lavoro alcuni si sono trovati veramente in difficoltà a gestire queste riunioni riunioni che poi non facevano altro che poi prolungare il tempo per eh per terminare per poter terminare il lavoro perché le deadline comunque venivano rilasciate in maniera simile a quello del lavoro fatto in presenza ed ecco che quindi io lavoratore che per una giornata sono stato impegnato in per il trenta per cento quaranta per cento del mio tempo in video riunioni in chat o in in o nella lettura delle mail dei colleghi eh e qui poi si apre un capitolo immenso dovuto alla difficoltà di comprendere per esempio il tono di una mail di un messaggio eh è storia di tutti i giorni le ehm i qui pro quo che vengono che nascono per esempio da un messaggio scritto in tutta fretta diciamo ma tu mi hai trattato male eh e nascono quindi anche attriti all'interno dei gruppi di lavoro e poi banalmente attriti che non ci sarebbero stati immaginate quanto si è perso in questo momento di quella interazione importante che c'era con i colleghi sul posto di lavoro gli americani la chiamano water cooler effect l'effetto della macchinetta del refrigeratore d'acqua no quel bidone che gli americani hanno in tutti gli uffici e che ormai anche in italia sta prendendo un po' piede io l'ho ribattezzata ho questa un po' questa abitudine di ribattezzare cose l'effetto macchinetta del caffè eh la macchinetta del caffè per chi ehm come me ha eh frequentato tante grandi aziende è è un momento di eh non solo di svago ma è il momento in cui cadono delle barriere per esempio con il proprio capo eh con il proprio superiore per cui là davanti si dicono delle cose che nel rapporto poi di tutti i giorni magari viene mediato dalla dalla posizione gerarchica la macchinetta del caffè è un po' un'area libera una free zone dove le persone si sentivano libere di scambiarsi idee e guarda caso le grandi eh aziende della Silicon Valley americane prevedono sempre questi grandi spazi di aggregazione che permettono alle persone di condividere in ambienti non ufficiali le proprie emozioni le le idee che vengono e stimolano le persone a lavorare in questi ambienti da noi appunto rimane la mensa eh Oricon eh appunto che era la committente di quello studio che vi ho fatto vedere all'inizio sta rilevando che la perdita di ehm socialità dovuto alla perdita di quel momento quell'ora che era dedicato al pasto comune eh durante l'orario di lavoro è una perdita molto importante in termini di socialità e quindi di rapporti di lavoro ecco il senso di abbandono non è che io non so che il mio capo non mi risponde al telefono ma non ho più quei momenti che per esempio mi consentivano di lavorare di di potergli dire una esporre un dubbio ehm chiedere una spiegazione che in un momento in un altro momento diventa un'ammissione di magari ehm non competenza bene tutto questo è quello che sta eh che stanno ehm comunicandoci le persone che stanno lavorando in questo nuova in questo nuovo modo di lavorare e quello che un po' mi sconcerta è che sto vedendo che molte aziende si stanno preparando allo smart working bene dovrebbe essere una buona notizia in effetti poi se si va a vedere le aziende si stanno preparando perché hanno scoperto il gran risparmio che se ne ha dal tenere le persone a lavorare in possi distaccati qualcuno ha stimato trenta per cento dei costi fissi di affitto qualcuno ha parlato di un sessanta per cento di costi se poi parliamo anche ci aggiungiamo l'energia elettrica risparmiata se ci mettiamo la minore necessità di avere eh arredamenti all'interno degli uffici a fronte del vantaggio che invece viene prospettato al lavoratore che è quello di beh ma ti risparmi il tempo di venire non paghi la benzina ok va bene e quante sono le spese che invece il eh il lavoratore sostiene in più qualcuno ha provato in un eh in eh a eh definirle scusatemi un momento sono uscito dalla condivisione non volevo e è venuto fuori uno schermino di questo tipo quindi il datore di lavoro da una parte risparmia spinge il lavoratore a questo lavoro chiamato smart working e se andiamo a vedere quanto ci riporta il sito di ss tariffe guardate un pochino quante sono quanto aumentano le spese in un anno per una famiglia normale ecco qui sono cinquecento ventotto euro in più per ogni famiglia per un single queste costi in più si attestano intorno ai centocinquantacinque euro per una coppia intorno ai duecentotrentuno euro sono non è tanto però se poi a questo aggiungete che magari si è perso eh si è perso di ehm di ehm di ehm di si è perso una parte della retribuzione dovuta per esempio al al allo straordinario che veniva retribuito prima se si è persa l'indennità di presenza se si è perso la la possibilità di accedere al ticket restaurant nel nel nell'economia eh di una famiglia dove il reddito non superi eh determinati eh cifre beh questa cosa comincia ad appesare anche per il venticinque trenta per cento che non è una cifra banale è una cifra eh molto rilevante a fronte appunto poi del contentino che io dico al al si dà al dipendente dicendo ma risparmi quella mezz'ora quell'ora di 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 tempo che usavi per venire in ufficio per andare in ufficio anche qui i pareri sono discordanti qualcuno addirittura sta eh dicendo che ehm il tempo che invece veniva in qualche modo quando non era eh quei tempi assurdi di persone pendolari che magari fanno le due ore di treno le tre due ore e mezza di treno ad andare a tornare ma quando erano la famosa venti minuti ora di trasferimento che era piuttosto normale in città come Roma come Milano beh quell'ora non veniva vissuta si 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 ritiene che non venisse vissuta tanto come tempo perso ma come un momento in che il lavoratore aveva proprio per staccare la eh dal lavoro per staccare la propiamente dalla dall'ambito lavorativo per entrare nella modalità vita privata capisco che è tutto sindacabile comprendo che eh in questo senso tutto dovrà ancora essere studiato ma naturalmente immaginate di invece avere il computer aperto sulla mail aziendale rimasto sulla sul tavolo della cucina e magari ehm essere fermi a preparare eh la cena e vedere la mail le mail che continuano ad arrivare ecco lì che non esiste più questo stacco eh ed è il momento ed è il modo e nel meglio è il motivo per cui poi inizialmente vi dicevo ecco lì che le donne hanno patito maggiormente perché poi la la mamma di famiglia ma anche il padre di famiglia che magari vuole eh dedicare quei dieci minuti quel quarto d'ora quell'ora ai propri figli ma che continua a vedere il monitor che eh rilascia mail o chat aziendali ecco che lì il il si va in generale quel quel fenomeno dell'always on del sempre connessi che non permette più di scaricarsi ed è anche il motivo per cui io credo le persone abbiano avuto questa sensazione di lavorare di più perché non hanno il non c'è uno spostamento fisico dal luogo di lavoro al lavoro ehm occorre rilevare ancora che per molti di noi è stato necessario per esempio adibire delle postazioni di lavoro eh ci sono persone che hanno acquistato dei monitor che prima non avevano perché lavorare tutto il tempo magari su portatile da tredici pollici o da quattordici pollici stancava alla vista è stato necessario acquistare dell'hardware per eh poter ehm partecipare correttamente alle riunioni eh aziendali e che non sempre è stato dato dalle aziende ehm anche qui eh se da una parte ci sono state aziende che si sono rilevate latitanti da questo punto di vista vi devo fare per esempio l'esempio di Sanofi che in Italia ha fornito un'intera postazione di lavoro ai propri lavoratori dandogli non solo il PQC la videocamera il il router e addirittura portando la linea a casa del lavoratore ma gli ha fornito la scrivania gli ha fornito la sedia a questo allora e qui poi nasceranno i problemi che dovremo affrontare in seguito relativi alla normativa per non creare lavoratori di serie A e di serie B però anche qui attenzione perché se io parlo di tele lavoro tutto ciò è ammissibile se parlo di smart working e questa cosa non è eh più tanto semplice da gestire perché lo smart working per definizione non ha una postazione fisica dove stare e quindi che faccio fornisco al lavoratore una postazione che lui si sposta a secondo delle sue eh del 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 di come si sveglia la mattina da una parte all'altra eh il router la linea dove gliela attesta ecco perché io dico sempre che quello che abbiamo fatto fino ad oggi e non lo dico solo io eh ci sono ehm tante eh citazioni che vi potrei portare eh di ehm Alessandro Ramazza che è il direttore di Runstand Research che parla appunto della necessità che imprenditori e dirigenti guidino i processi innovativi eh Nicola Uva che dice che il problema di oggi in Italia non è non sono le persone ma i manager e i capo ufficio che non sono pronti o non capa o non sono capaci di affrontare questo cambiamento non essendo in grado di pianificare delle gare ma soltanto di controllare visibilmente la presenza delle persone smart working vuol dire ripensare completamente l'organizzazione smart working a differenza di tele lavoro non vuol dire lavoro in solitaria non vuol dire lavorare da casa o dal giardino noi abbiamo un pochino questa iconografia dello smart worker come il tizio in infradito che lavora sotto l'albero nel 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 parco sotto casa non è questo smart working è anche e in modo particolare lavoro di condivisione lavoro fatto in strutture diverse pensate alle hub room che stanno nascendo in molte aziende innovative eh di oltreoceano e anche in qualche azienda italiana Mars Mars Italia è un esempio che va studiato e lo trovate il che sta di ehm proprio sul sito dell'osservatorio del Politecnico di Milano è un che sta di che si trova si può scaricare gratuitamente dal sito ed è un un esperimento ormai consolidato da svariati anni dove in Mars Italia addirittura si può portare il proprio il proprio cane sul posto di lavoro eh si può si lavora in 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 ambienti condivisi questo è lo smart working non è lavorare da casa e qui le grande errore che si sta facendo e cioè assimilare lo smart working a un lavoro solo ed esclusivamente fatto in ambiente casalingo o in un ambiente x qualunque che non fosse quello smart working è un lavoro che viene fatto in condivisione è l'idea che quello che che viene a essere sottolineato nello smart working che non è come vi faccio fare una risata eh all'inizio della pandemia intervistarono non 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 riuscì mai a capire chi fosse questa persona ma eh la rete era Radio 24 eh questo manager questo sedicente manager che diceva che lo smart working non andava bene perché essendo un lavoro veloce era chiaramente un lavoro malfatto quindi se immaginate che i presupposti dal quale si è partiti per dare un nome che va benissimo perché se nell'emergenza noi vogliamo chiamare questo lavoro smart working a me sta benissimo non sta bene se eh non riusciremo a fare quei passi avanti importantissimi per modificare l'approccio al lavoro agile cioè un lavoro fatto di non più dipendenti ma di un lavoro che dovrà rendere i lavoratori sempre più dei professionisti autonomi nelle decisioni capaci di auto verificarsi e autogestirsi mantenendo fermo un controllo che naturalmente deve esserci da parte di chi proprio da quei manager che dovranno imparare affidarsi dei propri lavoratori questo è lavoro agile questo è smart working è imparare a delegare perché poi è molto divertente andare a vedere questo quello che è successo in in questo periodo il quarantatré per cento di mille duecentocinquantasei dipendenti italiani intervistati da cap terra Italia che è una società che fa mette a confronto i software ha dichiarato di lavorare in azienda che utilizza strumento di monitoraggio dei dipendenti e il ventidue per cento ha affermato che questa attività di sorveglianza quando è cominciata è cominciata con la pandemia cioè sono stati invece di di lavorare sul sensibilizzazione delle persone sul la crescita del del delle persone e dei manager che dovevano stimolare un lavoro in un momento emergenziale alcune aziende non hanno dato meglio di acquistare software per il controllo delle persone addirittura e poi qui entriamo nelle nei discorsi di privacy che oggi non fanno parte del tema della del nostro incontro ma su cento lavoratori solo 88 sono stati correttamente informati sul funzionamento di questi strumenti di verifica e controllo il 12 per cento o se ne è accorto da solo o ha dovuto chiedere spiegazioni all'azienda perché non aveva avuto le informazioni necessarie quindi anche in qualche modo andando a le aziende andando ad essere un po' contro anche la famosa legge 300 del 1970 che è lo statuto dei lavoratori che prevede che non si possa fare verifiche e controlli sull'operato dei lavoratori se non per motivi di sicurezza o in qualche modo ben chiariti in ambito di contrattazione collettiva dal sondaggio poi naturalmente emerge una cosa emerge che le attività che sono state controlli non è stato per esempio la qualità del lavoro bensì quante ore si è lavorato facendo che cosa verificando quanti sono stati i movimenti del mouse la registrazione dei tassi premuti e nel 50 per cento semplicemente con la verifica della timbratura del login e del logout che il lavoratore faceva sul proprio personal computer tutto questo che cosa va a ingenerare secondo voi va a ingenerare una maggior fiducia nell'azienda va va a far sentire i lavoratori più più sensibili verso le necessità dell'azienda o va invece a aumentare appunto lo stress va aumentare la mancanza di motivazioni dei lavoratori guardate questo questo grafico che appunto viene ehm ho estrapolato da questo studio di capterra ecco lì che il 39 per cento di quei 1256 che chiaramente è un campione ridotto dei lavoratori sia lavoratori che middle management delle aziende che sono state ehm interpellate dice va a diminuire questa questa ehm voglia di sentirsi parte dell'azienda addirittura il 31 per cento ha eh evidenziato la mancanza di fiducia eh di dell'azienda e il 28 per cento addirittura di mancanza di etica da parte dell'azienda e immaginate quanto sia importante invece se vogliamo far tesoro di questa esperienza se vogliamo veramente portare l'Italia a essere un paese molto più eh vicino a eh paesi che queste ehm questi modi di organizzazione aziendale lo stanno adottando eh dobbiamo fare cioè questo salto generazionale che dobbiamo fare per portarci veramente a un lavoro smart e dobbiamo evitare di buttare soldi gli strumenti di controllo ma magari investire questo denaro in ehm in ehm spinte motivazionali per i nostri dipendenti guardate che tutto questo è verissimo anche quando ne parlavamo nell'ambito della salute e sicurezza quelle aziende che parlano di salute e sicurezza sul lavoro soltanto andando a eh in qualche modo ehm in qualche modo a sanzionare il lavoratore non avevano lo stesso successo di quelle aziende che invece lavoravano sulla motivazione del lavoratore alla salute e sicurezza e risultati e esistono studi ormai eh datati anche in cui scientificamente è stato provato che quel eh quella quell'aiuto quel quel rinforzo positivo eh uso un un termine da psicologia eh cognitiva quel rinforzo positivo che veniva dato al lavoratore serviva ad aumentare fortemente la motivazione al lavoratore a lavorare in maniera sicura quindi non scopriamo l'acqua calda se diciamo che se a un lavoratore gli metto il controllo dei tasti quel lavoratore farà quel numero di tasti e dopo di che si sentirà libero di non lavorare ma invece dobbiamo creare una nuova eh generazione di manager o dobbiamo lavorare sulle sui manager che abbiamo perché noi poi non dimentichiamo eh che i manager italiani sono degli ottimi manager eh alcune situazioni ma mi viene in mente Olivetti mi viene in mente Marzotto di cui conosco per assolutamente la realtà lavorativa perché ho avuto eh l'onore di lavorarci beh ragazzi negli anni trenta queste aziende mettevano in atto eh modalità di che oggi sarebbero di smart working eh senza neanche sapere che cos'era lo smart working ehm lavoravano su welfare aziendale in maniera fortissima avevano capito l'importanza della comunicazione fra le varie generazioni di lavoratori che quindi convivevano in azienda questo è smart working secondo Pierpaolo Pacione tutto il resto è qualcosa che invece eh è molto più legato a una dislocazione dei posti di lavoro che ha e comunque confermo e ribadisco fortemente ha un'importantissima connotazione perché utilissima bisogna farlo uscire anche questo bisognerà farlo sdoganare l'idea che il tele lavoro è qualcosa di destinato solo al al tipo che al che ha un problema in famiglia dobbiamo sdoganare l'idea che le le donne che prendono lo smart working sono per forza di cose condannate a non poter fare la stessa carriera che fa un lavoratore perché se no se non usciamo da quest'ottica allora gli gli strumenti li abbiamo abbiamo la legge cento quattro abbiamo i permessi retribuiti non dobbiamo starci a eh preoccupare più di tanto e invece che qui termino fare un tesoro di tutto quello che abbiamo appreso in questo periodo dobbiamo riuscire a modificarci tutti noi io per primo perché appunto trovo ancora grandi difficoltà nel parlare a un'aula un'assemblea senza vedere le persone ma dobbiamo imparare a convivere con questi nuovi strumenti che sono strumenti che potranno aumentare la produttività e potranno aumentare quella capacità e quella possibilità di vivere meglio sia il posto di lavoro sia la nostra famiglia io concluderei qui lascio la parola eh al professor Cecchini e se ci sono domande volentieri sono qui pronto a rispondervi grazie per Paolo perfetto molto interessante e diciamo spunto di diverse riflessioni da fare una considerazione potrebbe essere quella che questo smart working dovrebbe diventare ancora più smart cioè praticamente essere un po più gestito in modo più intelligente Massimo più manageriale e meno tecnico esatto perché appunto come dice l'osservatorio è una filosofia manageriale e non è un aspetto solo tecnologico noi oggi siamo naturalmente nell'emergenza lo ribadisco scusami Massimo lo ribadisco ancora adesso non c'è nessuna voglia di criticare ciò che è stato fatto dalle aziende dalle pubbliche amministrazioni in questo momento anzi tutto totalmente assolutamente apprezzabile ora aspetta a tutti noi raccogliere i frutti di quello che abbiamo imparato tutti quei vertical skills che adesso abbiamo acquisito e che abbiamo che i lavoratori hanno acquisito anche i lavoratori delle pubbliche amministrazioni non perdiamo è una è uno di tutto la tragedia che il covid ci ha generato forse questa è una delle parti più importanti da recuperare per creare una nuova generazione di lavoratori perché poi millennials le generazioni z scusate le generazioni y sono generazioni che vogliono lavorare in quel modo e quindi noi a noi delle generazioni un pochino più verso ormai il silent dobbiamo riuscire a capire comprendere aiutare a fare questo passaggio c'è una scusa mi vedo una domanda il problema dello smart working riguarda anche l'attività didattica c'è poca interazione da parte di studenti secondo lei quali possono essere i metodi di approccio migliore per convolgere chi ascolta e renderli maggiormente partecipi eh Valerio eh posso massimo rispondere a questa domanda? Anzi rispondi anche a me perché se hai qualche suggerimento ben bene eh Valerio io credo e io uno sforzo che sto facendo da anni da quando cioè mi occupo di formazione sull'ambito del lavoro tutti noi eh poi per quanto dobbiamo fare una distinzione una cosa è la scuola perché la scuola naturalmente richiede uno sforzo ancora maggiore perché eh parliamo di pedagogia se però mi consenti di parlare solo di ciò che io conosco molto bene cioè la formazione degli adulti e renderla più interattiva è un compito dei docenti è un compito difficile che ogni docente dovrebbe assumersi ehm tra le le mie frasi preferite quando inizio un corso è che se il corso finirà bene il merito sarà dei discenti che hanno interagito con me se andrà male la colpa sarà mia perché il compito di eh mettere su i protocolli di comunicazione è mio quindi anche lì il compito renderlo ehm più smart renderlo più interattivo ok però io anche oggi ho visto tante telecamere spente ho visto poca interazione eh questo è un po' e guardate mi capita continuamente quando faccio formazione devo pregare le persone di parlarmi perché perché se le persone poi sono loro i primi che non vivono questa formazione in interazione io posso farci poco posso svenarmi sgolarmi e così in questa in aula io gli tiravo dietro il decreto legislativo 81 quando lo vedevo distratto e quello lo si svegliava ci facevamo tutti una bella risata era un momento di eh di destrutturizzazione della della di quella di quell'aspetto formale che c'era in aula per farci tutti quanti una risata eh il momento dell'icebreaker il momento il toccare una spalla delle persone era importantissimo ora dobbiamo imparare a toccare le spalle delle persone anche in questo modo come fare onestamente ti dico che anche io ci sto ancora studiando quello che posso fare è cercare di eh interagire il più possibile anche empaticamente anche con la proprio tono di voce questo è l'unica cosa che credo no io sono d'accordo posso certo Valerio certo vuoi chiedere se mi vede sì sì buongiorno piacere anzitutto grazie eh quello che intendo dire è che secondo me ci sono delle ripercussioni negative proprio dal punto di vista della formazione di studenti perché almeno parlo per la tuscia ma diciamo il corso è sicurezza sul lavoro vedo completamente la disinteresse di chi ascolta di chi ascolta sì certo non danno feedback cioè noi spieghiamo noi facciamo lezioni non ci sono feedback cioè noi possiamo anche dire delle cavolate e dall'altra parte nessuno almeno a lezione dal vivo qualcuno dice no professore guardi è il decreto legislativo 81 del 2008 non è il 115 del 2008 qui noi possiamo dire quello che noi vogliamo e nessuno effettivamente interagisce questo secondo me è una cosa completamente negativa eh Valerio credo che manchi l'educazione e per l'educazione non intendo l'educazione quella l'educazione a utilizzare questi strumenti probabilmente ciò richiederà tempo una cosa io credo e spero spero che la didattica torni sempre più in presenza eh perché la didattica in presenza è un grande aiuto per gli studenti e il rapporto con i propri eh docenti con i propri professori è un rapporto che poi si mantiene per tutta la vita io ho ricordi di professori del liceo e ho ricordi di professori dell'università che mi hanno segnato con la loro presenza in aula quindi io mi auguro che pur nella possibilità che alcune cose vengono poi mantenute nel magari la possibilità di di eh seguire una lezione due lezioni tre lezioni dieci lezioni in in via via web ma non si deve ripeto quello che ho detto prima smart la parola smart quindi questa questa grande innovazione che c'è non vuol dire lavorare a casa vuol dire lavorare in modo diverso vuol dire la non allora lo smart non preclude la presenza ecco quello che voglio dire quindi anche la non dobbiamo pensare che da oggi in poi oggi è perché purtroppo dobbiamo rispettare delle delle misure di sicurezza eh sanitaria che ci impongono la distanza ma io mi auguro che mia figlia ritorni all'università il più presto possibile ma se lo augura anche lei io non avrei mai creduto di avere di sentire mio figlio di 18 anni dire vedo l'ora di tornare a scuola e quando vediamo quei ragazzi che in qualche modo manifestano la necessità di tornare a scuola non fanno finta come dice qualcuno perché io sentivo dire anche persone della mia età di guarda questi fanno così però poi no no questi ragazzi hanno voglia mio figlio mi ha detto io sto perdendo la parte più bella della mia vita quindi un po allora da docenti dobbiamo essere in grado di chiedere di attivare i monitor dobbiamo chiedere di essere proattivi dobbiamo imparare a tirare il decreto legislativo 81 in testa a quello che si distrae dal monitor come fare lo impareremo questo siamo ne siamo ben consapevoli tra l'altro c'è anche la difficoltà che spesso con alcuni sistemi non anche mentre stai presentando neanche la possibilità di vedere chi anche se i monitor sono accesi chi ti sta ascoltando eh noi per esempio con la tuscia abbiamo rimetto fatto di tutto per riaprire i corsi in presenza e al momento c'è la possibilità per gli studenti di partecipare in aula prenotandosi in aula ovviamente con tutte le norme di di prevenzione no per il covid eh chi vuole può seguire a distanza e e con il vantaggio ulteriore di avere poi la la registrazione della lezione quindi la lezione rimane anche a disposizione per rivedersela di studiarsi cercare di ricapire magari qualcosa che non è stato compreso afferrato nel nel momento così diciamo in sincrono no prof lei ha perfettamente ragione però insomma pure le piattaforme tipo zoom meet beh noi utilizziamo zoom no alla tuscia devono avere magari funzionalità dove a un certo punto esce fuori in questionario comunque una specie di interazione reale degli studenti che si sono costretti comunque a non dico seguire passo passo ma almeno avere le orecchie attive così cioè questi strumenti in realtà ci sono il problema è che molti non li usano non li sanno usare non li conosco neanche ci sono io vi faccio un esempio l'ultimo corso che ho fatto ho fatto per delle persone diciamo in friuli sulla sicurezza avevo organizzato la lezione organizzando delle lavori di gruppo e zoom ti consente di dividere diciamo i partecipanti in gruppi quindi io saltavo da una stanza all'altra e dopo aver affidato il compito poi alla fine ci siamo rivisti tutti insieme a discutere diciamo il lavoro affidato quindi questo i modi per lavorare ci sono e forse anche abbastanza comodi semplici certo la presenza in aula è un'altra cosa però come diceva all'inizio no pierpaolo siamo questo non è tanto smart working emergency emergency working esatto e no perfettamente ragione cioè bisogna reinventarsi anche il docente si deve reinventare per applicarsi purtroppo a questa situazione emergenziale assolutamente perché come guardate che stiamo ancora girando su un argomento che appunto è una filosofia che dobbiamo imparare e la colpa non è di nessuno che in questo momento brancoliamo un po tutti al buio studenti che seguono un po di meno perché così o si sentono abbandonati io vi devo dire la mia esperienza personale se volete io ho una figlia che era il terzo anno di quarto anno ingegneria edile architettura questo è l'anno che ha abbandonato già lei non era convinta eh questo anno l'ha convinta buon per lei perché ha capito che non era la sua strada mi ha detto io non è la mia strada io sto soffrendo da tre anni non ce la faccio più e mi ho detto d'accordo cambia non non è che io posso generare una figlia infelice perché voglio l'ingegnere però naturalmente questa cosa ha eh in qualche modo enfatizzato un una infelicità nel bene e nel male perché per me è stato un bene perché se poi avesse continuato probabilmente sarebbe stato un ingegnere edile architettura un ingegnere edile infelice per tutta la vita e quindi ben venga questa cosa però vuol dire anche che magari in tanti altri invece c'è stata la demoralizzazione del non riuscire a seguire un corso di sentirsi un po' abbannati e ripeto e qui mi prendo mi assumo tutte le responsabilità di quello che dico ma perché l'ho sempre fatto scusatemi siamo noi docenti e parlo della del mio settore che è quello della della formazione in ambito salute e sicurezza sul lavoro che dobbiamo lavorare sui canali di comunicazione come diceva giustamente il professor Cecchini è il docente che deve eh trovare le modalità per collaborare con le modalità collaborative che sono molto importanti dobbiamo impararle a usare eh come i manager devono imparare a fidarsi delle proprie persone dobbiamo impararci a fidarsi dei nostri studenti eh è lavoro però è una è un nuovo inizio possiamo dire d'altronde dopo il medioevo c'è stato il risorgimento scusate il risorgimento il rinascimento eh che ha generato personaggi meravigliosi nella storia dell'arte e venivamo da un'epoca terribile probabilmente il covid ci lascerà questa cosa la cosa buona è che già questo seminario è chiaramente l'idea che 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 c'è il seme della non convinzione che stiamo facendo smart working cioè a parte il divulgatore il giornalista che usa il termine per chi come noi professionalmente si occupa di queste cose dobbiamo avere il coraggio di dire signori smart working una cosa quello che stiamo facendo va benissimo adesso chiamatelo come volete emergency working telelavoro co-working home working cioè flexible working ce ne sono n di di in questi giorni ho ho trovato forse 15 nomi per dire la stessa cosa però dobbiamo pensare che non è che noi dobbiamo pensare alle persone chiuse in casa gli studenti chiusi in casa lavorano noi dobbiamo pensare a un a un a un rinascimento della vita al di alla fine di questa emergenza che ci riporti a convivere anche perché siamo animali sociali abbiamo bisogno della socialità abbiamo bisogno di condividere le idee abbiamo bisogno della macchinetta del caffè perché ci servono e le idee migliori vengono dal brainstorming non vengono dal ci guardiamo in faccia via il brainstorming non è fatto solo di idee che vengono scritte su una lavagna è fatto di persone che si guardano che si toccano e che interagiscono fra loro con tono di voce con gesti delle mani e tutto quanto quindi convinciamo gli studenti intanto a tenere accese le videocamere convinciamo ad averli in crederglielo per favore accendete le videocamere perché è importante perché almeno io vedo se adesso tu adesso ho detto una cosa e tu valerio hai fatto così con la testa è la prima volta eh lo stai rifacendo vedi come come gesto cinestesico è impossibile da da controllare e se io ti vedo capisco che in questo momento sei d'accordo con me se non ti vedo magari stai a fa non lo so quindi convinciamo le persone a essere presenti in aula e a me l'altro giorno c'è stata una persona che mi ha detto cioè no ma io non ho non ho né il microfono né la videocamera iphone di quindi questo c'è un iphone senza senza videocamera e senza microfono probabilmente eh ma che fai lo butti fuori dal corso potremo anche decidere però dovrebbe essere una decisione condivisa da tutti quanti io in alcuni corsi l'ho fatto detto chi non interagisce almeno col microfono per me non sta facendo il corso mi dispiace ma non non gli faccio fare il test eh sono cattivo qualcuno mi ha detto che sono cattivo poi non ti lascio pensare se poi questo ha delle ricadute economiche come i corsi che faccio io che sono a pagamento quello che succede quando tu mandi fuori una persona cioè la colpa è la tua che l'hai mandato via però bisogna avere il coraggio di farlo secondo me condivido altre domande siamo andati ben oltre l'una professore io ho fame anch'io ma purtroppo un'altra riunione sì lo so infatti quindi niente ti ringrazio innanzitutto spero di essere stato esauriente assolutamente magari magari avremo anche occasione di di fare di organizzare qualcos'altro insieme molto volentieri guarda ti ringrazio mi sarebbe per me un onore bene grazie un piacere eh lascio la parola a Sara per conclusioni diciamo un po' anch'io volevo innanzitutto ringraziare il professor Facioni perché è stato veramente interessante e sì speriamo insomma di organizzare qualche altro corso presto e riguardo a tutte le persone che hanno partecipato che stanno bisogno di ricevere un attestato di partecipazione appunto possono richiederlo a Viterbo Chioccio rapportafuturo Lazio punto link poi siamo disponibili per qualsiasi domanda informazione grazie grazie Sara grazie porta futuro e soprattutto grazie a Pierpaolo che appunto ci ha poi illuminato e fatto riflettere molto su questa nuova modalità di lavoro ai prossimi incontri quindi per quanto riguarda il DAF saranno il mese prossimo arrivederci arrivederci a tutti grazie a voi grazie infinite